La Cina e l'Unione Europea hanno firmato sei accordi al ventesimo summit a Pechino tra le tensioni commerciali avviate dagli Stati Uniti e le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump che accusa l'UE di essere un nemico. Al vertice e al centro del quale ci sono scambi commerciali e investimenti partecipano il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk i quali sono stati ricevuti nella grande sala del popolo dal premier cinese Li Kei Yang. Previsti anche colloqui con il presidente Xi Jinping. Tusk ha affermato che l'Unione Europea, Stati Uniti, Cina e Russia hanno il dovere di collaborare per calmare le tensioni sul commercio ed evitare una spirale di violenti conflitti e caos. È un dovere comune dell'Europa e della Cina, ma anche dell'America e della Russia non distruggere l'ordine commerciale globale ma migliorarlo, non iniziare guerre commerciali che si sono trasformate in conflitti caldi così spesso nella nostra storia. C'è ancora tempo per prevenire conflitti e caos, ha sottolineato.